Un indizio è un indizio. Due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Il primo indizio che si è successo qualcosa di speciale 40.000-43.000 anni fa, in una specifica fascia del pianeta, è che in Sudafrica, paleolitico superiore e inizio neolitico, degli uomini si sono infilati nelle caverne ed hanno cominciato a disegnare e dipingere. Senza tentativi progressi, o almeno finora non li abbiamo trovati. Nello stesso arco di tempo altri uomini hanno fatto lo stesso, leoni, rinoceronti, cavalli, a Peche Merle, Francia centro-meridionale, ad Altamira, Spagna, a Fumane, Italia, distanze enormi per l'epoca. Il secondo inizio che si è successo qualcosa di speciale è che in quell'arco di tempo, 3.000 anni non sono molti per l'evoluzione di una specie, in quell'arco di tempo, dicevo, scompare l'uomo di Nendertal in Europa, l'uomo Ergaster in Nordafrica, l'uomo di Denisova, forse anche l'uomo Floresiensis, aggiungo forse perché del Floresiensis abbiamo poche info. L'uomo Erectus esce dall'Africa e si dirige un po' in Europa, un po' a Est. Anche il Sapiens esce dall'Africa e si dirige un po' dappertutto. Stranamente entrambi evitano l'interno della Cina. No comment. Il terzo indizio, quello che fornisce la prova, è che sia in Sudafrica che in Francia, in Spagna, in Italia, siano stati gli Erectus o i Sapiens, hanno tracciato nelle rispettive grotte anche di segni astratti. Prova di che? Prova che improvvisamente, mi si passi il termine per 3.000 anni di storia, l'uomo ha concepito il sistema simbolico e con esso il pensiero astratto. Pensate a un gruppo di cacciatori raccoglitori. A un certo punto alcuni di essi fanno dei segni su una parete di roccia e ci vedono leoni, rinoceronti, cavalli, tori, uomini e donne in atteggiamenti dinamici. Per noi è facile interpretare quei segni, non certo per chi ha vissuto centinaia di migliaia di anni nella natura a contatto con gli animali veri. Concepire un sistema simbolico è un enorme salto evolutivo che sviluppa di conseguenza il pensiero astratto. Con esso il linguaggio, la capacità di trasmettere efficacemente esperienze e conoscenze e, soprattutto, la possibilità di organizzare cacce collettive. Quindi maggior cibo e più tempo da dedicare a invenzioni e procreazione. Sulle cause che hanno determinato questo salto evolutivo, dedicherò la prossima clip per ipotizzare come l'uomo abbia potuto avere questo salto e con esso lo sciamanesimo. Ipotesi mie personali, naturalmente. Ipotesi mie personali, naturalmente, nel corso di comfort. Grazie a tutti.